Gigan Battle è stato tradotto per modo di dire perchè poi è in inglese e spero che Gigan Battle 2 che comprerò perchè sarà sul New World sperando che arrivi in Europa non ho visto ancora se è stato localizzato per l'Europa oppure no ma spero ci arrivi e se ci arriverà lo prenderò sicuramente ah lo volevo prendere in portafone dal Giappone però non lo so perchè non conoscendo ancora la storia del New World meglio che che aspetti occhi di falco ragazzi anche occhi di falco insieme a barba bianca è uno dei personaggi più belli e più forti anche se rapper gli fa letteralmente il culo vabbè ogni volta mi viene da chiamarlo rapper non so perchè ma non lo fa apposta eh sto gioco a confondere raffi 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 si raffi 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 fu raffi constru e Per l'inde raffi 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 gli farebbe letteralmente il culo solo perchè ma se no io che sto un handicappato perchè qui si deve resistere ecco vaffanculo la volta che morivo c'era cioè ci doveva essere per forza si andiamo è bello visto questo e se mi guardo e dice questo è un deficiente perchè sfrutta il mio nome in vano aica samo no 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 don't no 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 che fallis no io ci vuole questa volta che si farà maledetto questo video è lungo solo per questa strunzata la prima volta la fatta in dieci in dieci ingestini c'è il sessanto ma andiamo da avere rapido di cui quando ci si tratta di resistere la missione consiste nel nel solo girare per il campo e rompersi coglioni ma è il stronzo ma 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 beh perchè l'ho finita io questo perchè io lo ho ricevuto un pochino prima che gioco il mio negozio di fiducia aveva rotto il day one finalmente l'abbiamo completato ah che carducio eccoci oh già ho 14 minuti che palle moria vs rubber ecco non gli fa veloce questa battaglia ok perfetto e vabbè ragazzi anche questa seconda parte è finita e spero che per 15 minuti 15 minuti e 26 me lo faccia caricare quindi ciao a tutti e alla prossima parte ciao ossu grazie a tutti